Quali sono i 10 batteristi da ascoltare assolutamente? Allora, è chiaro che fare una lista così su due piedi è un casino, però ci sono quelle domande un po' assurde che ti fanno, no? Tipo, ma se andassi in un'isola deserta, quali sono i 3 cd che ti porteresti? E uno dice, ma 3 cd come faccio a scegliere? Quindi prendiamo questa lista come se fosse un gioco. E' chiaro che rinchiudere 10 batteristi in tutta la scelta che abbiamo a disposizione è impensabile. Però io ho stilato la mia lista di 10 batteristi che a me hanno parecchio influenzato. Tra i commenti puoi scrivere, secondo te, quale batterista posso avere tralasciato? Questa però è la mia lista, quindi decido io le regole qua. Non potete sicuramente non ascoltare John Bonham dei Led Zeppelin. John Bonham dei Led Zeppelin penso che sia stato in assoluto il batterista più influente nel panorama rock della musica moderna. Il suo suono era di una potenza che tuttora nemmeno i gruppi metal ce l'hanno. E aveva uno stile tra l'altro fenomenale, perché comunque sia lui era molto istintivo. Secondo me chiaramente era un batterista tecnico, però secondo me lui giocava molto distinto. Si sentiva proprio la prepotenza che aveva in questi suoi fill, queste sue linea rinzestine che hanno un po' dato la firma al suo drumming. Ascoltatevi la solo che fa su rock'n'roll, quel piccolo assolino, chiaramente Moby Dick, però vabbè, però non essere banali. La solo che fa a finale di rock'n'roll sentite proprio i classici linear che sono una roba allucinante. E tra l'altro poi sentite anche un colpo di bacchetta che scappa, si vede tra un linear e l'altro, che fa venire un po' il sorriso, diciamo. Bello, bello, bello. Young Pace dei Deep Purple. Young Pace dei Deep Purple, quindi come generazione siamo all'unisono con John Bonham. Erano due, sono stati forse i batteristi di riferimento dell'hard rock negli anni 70. Però la differenza tra Bonham e Pace è che sicuramente Pace è un batterista molto più raffinato, molto più tecnico rispetto a Bonham. E lui si sente molto che arriva dallo swing. Io mi ricorderò, io ho avuto il piacere di vedere Young Pace dal vivo. Il suo modo di colpire il ride è veramente qualcosa di eccezionale. Nei pezzi hard rock dei Deep Purple, un pezzo come può essere Agui Star o Lazy o Space Tracking, comunque sia, nel suo modo di suonare senti sempre lo swing. Un disco che ti consiglio suonato da Young Pace è Run, Davey, Run di Paul McCartney, suonato anche con David Gilmour alla chitarra che è veramente eccezionale. E come non poter citare Billy Cobham. Billy Cobham è stato il batterista che ha cambiato il modo di suonare per molti batteristi. Noi ascoltiamo i suoi dischi solisti. Lui ha un rullo singolo che è impressionante, è veramente una mitragliatrice. Questa è una sua caratteristica, ma anche una sua caratteristica è il modo di accompagnare il Charlie, spesso in sedicesimi, proprio a dare quel tocco mezzo funky, fusion. Consiglio di ascoltarti i dischi drum and voice. Buddy Rich, Buddy Rich, parlavamo di John Bonham che ha influenzato molti batteristi rock e non solo attuali. Bene, Buddy Rich ha invece influenzato la generazione appunto di Bonham e Pace. Infatti se voi prendete il set che utilizzava John Bonham e Young Pace, era identico al drum set che usava Buddy Rich. Cassa, un tom, ride molto basso al posto del secondo tom e due timpani. Questa è una tecnica formidabile, una tecnica specialmente formidabile del piede destro. E sapete perché? Perché lui era un ballerino di tip tap. Una volta si è trovato in un concerto dove in pratica stava suonando, la molla della cassa si è spaccata e lui ha continuato a suonare il pedale a una velocità allucinante. Prima quarti, poi ottavi, poi sedicesimi, trrrrrrrrrrrr. Buddy Rich, ascoltate, io a me piace molto il disco Big Swing Face, un disco dal vivo che apre con una cover riarrangiata dei Beatles. Fantastica, ascoltatevi questo disco perché merita. Vini con l'aiuta, che dire? Vini con l'aiuta penso che sia l'unico batterista sulla faccia della terra che sia in grado di suonare al top ogni stile musicale. Che lo metti a fare metal, che lo metti a fare jazz, che lo metti a fare pop, che lo metti a fare latin, lui ti suonerà quello che sta suonando al top. E non è facile perché generalmente un batterista rock che suona jazz potrà essere bravo ma avrà sempre la personalità rock. O viceversa, un batterista jazz che fa rock avrà sempre comunque sia magari il tocco più jazz. Lui invece riesce ad avere il tocco giusto, il fraseggio giusto, l'intenzione giusta per ogni stile musicale che lui suona. Ascoltatelo nel disco di Sting, Seven Days, che secondo me è mondiale. Vuoi conoscere gli altri 5 batteristi della mia lista? Segui la prossima puntata sul batterista Zen. E' un'altra cosa che si chiama il tuo tempo.